il gomito è attaccato qui e non porto il gomito indietro quindi guarda il mio corpo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, poi può essere stoccato in prima, cioè scusa in prima quindi lascare il pollice verso l'alto, stoccato in seconda, in terza, in quarta adesso mantengo questa giù, 1, 2, 2, perché è troppo chiuso Il mio movimento arriva qua, più lo chiudi e quindi dai questo movimento, più e se arriva così tu riscattolate che il tuo braccio guarda la linea, punta in su e anche qua posso usare un po' la destra e un po' la sinistra, punta in giù, punta in su, punta in giù, punta in su, punta in giù, quindi mischio adesso punta in su, riangola punta in su, punta in giù punta in su, punta in giù, punta in giù che idea è questa? 1, 2, prendi adesso la tacca un'aria di qua 1, 2, 1, la tacca un po' 1, 2, entro, 2, 1, entro, tiro verso di me ok, vai No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Ah, ok, praticamente quando viene, ok, quando lui fa per le attaccate, ok, prima che segua la sua arma, ok, si, si, lo potrà, facciamo questo in acqua, ok, solo transazione da parte, e dall'altra. Ok, praticamente quando lui spinge, vado dentro e cambio l'arco, adesso che lui fa per le attaccate, ok, quando cambio l'arco, ok, pressione verso di me, ok, se lo sopra, ok, pressione verso di me. Pressione verso di me. Pressione verso di me. Pressione verso di me. Ok, adesso 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok. Cerca di unire Questo blocco Vado già Questa è molto buona So Ok Ok Adesso Due Uno 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 andiamo a fare la fine andiamo a fare la fine andiamo a fare la fine si, perché io sto fai quando decidi di entrare occupiamo spazio ok ah, guarda guarda, guarda, guarda posizione lo spazio per di che ho un po' lo spazio davanti non faccio questo per di che vado dritto vai ora andiamo a dire quando ci diventiamo è dritta ok per di che ho più lo spazio e apri niente andiamo abbassandola ci va a fare alla bacina ci va a fare alla bacina ok e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Punta in su, stoccata, punta in su. Punta in su, stoccata, punta in su. Un tenso. 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 Quindi 6,9,9,9,9,9,10 Ti dobbiamo immaginare Infatti mi stavo creando Perché può andare anche al vuoto Grazie. Ok, adesso, uno, anzi scusa, uno, due, tre, anzi facciamo più semplici ancora, uno, due, tre, così a mano senza andare a cambiare. Quindi, uno, due, tre, anzi facciamo più semplici ancora. Punta in giù, punta in su, scivolo, punta in giù, punta in su, che questo guarda quando lui fa per attaccare, scivolo dentro, questo è giallo che mi protegge. Quindi, un ten su, un ten giù, entro. Punta in su, un ten giù, entro. Un ten giù, un ten giù, entro. Un ten su. Punta in giù, entro. ok un gioco e giù ah scusami un gioco e giù e questo è nell'ultimo pezzo quindi non è contemporaneo cioè non è prima sul solo sul terzo il terzo è contemporaneo 1 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 6 7 8 8 8 10 10 11 12 12 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 12 13 14 15 15 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 19 20 20 20 22 22 21 22 23 24 24 25 25 25 25 26 25 20 25 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai